ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come completare l'ultima sfida o fase 3 di doom dovete vincere una partita va bene anche battaglia reale diciamo drissa squadre scusate e quando spunta fuori battaglia reale dovete usare l'emote di doom dovete essere veloci perché avete davvero pochissimo tempo a disposizione appena finisce la partita subito richiamate la ruota e usate l'emote di doom così completerete la sfida l'ultima sfida di doom e potrete sbloccare di conseguenza l'emote del trono dovete essere velocissimi ragazzi altrimenti non riuscirete a completare per tempo la sfida ecco infatti vedete dovete usare l'emote e voilà anche se sinceramente non ho avuto il tempo di usarlo quindi penso che basti finire una partita come vittoriosi nei panni di doom e il gioco è fatto quindi penso che basti finire la sfida di dolore 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 di Grazie a tutti.